Due bossoli calibro 12 e una bottiglia con sospetto liquido infiammabile, questi chiari segnali intimidatori che sono stati trovati questa mattina all'interno della stanza dei custodi del cimitero di Piana Traversa a Favara. La chiara e preoccupante missiva è stata notata dai custodi che questa mattina si sono recati al cimitero per una normale giornata lavorativa. Il primo sospetto è arrivato dalla porta che era socchiusa, quindi appena entrati hanno visto subito la bottiglia e i due bossoli. Immediatamente sono stati informati i carabinieri della locale tenenza che sono arrivati al cimitero presente direttamente il capitano Mirto. I militari hanno subito iniziato le indagini, hanno riscontrato la presenza di due bossoli calibro 12 e di una bottiglia con all'interno liquido sulla cui natura si stanno facendo gli accertamenti. Le indagini mirano principalmente a stabilire chi è o chi sono i destinatari della missiva intimidatoria, se direttamente i custodi o altro personale in servizio al cimitero o che comunque ha a che fare con il Camposanto. All'interno del cimitero di Piana Traversa sono collocate una serie di telecamere ma pare che il sistema di videosorveglianza non sia attivo già da tempo in quanto fuori uso, per cui sembra impossibile poter visionare le eventuali immagini. Del fatto sono stati immediatamente informati i dirigenti del servizio oltre che il sindaco. I carabinieri adesso stanno intensificando le indagini per risalire a quanto accaduto.